Sarà il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad inaugurare a Centola, Palinuro e a Camerota i lavori realizzati nell'ambito del grande progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno. Opere che hanno consentito di migliorare la depurazione delle acque refle nelle due note cittadine rivierasche. La cerimonia è stata prevista per mercoledì 22 luglio, giorno scelto dal Governatore per incontrare le istituzioni del territorio più a sud della provincia di Salerno. Alle 10 sarà a Palinuro e subito dopo, esattamente alle 11.30, sarà a Marina di Camerota in piazza Simona e Bolivar. Sarà una tappa lampo perché il Presidente è alle 13 all'appuntamento presso l'ospedale di Sapri con il direttore sanitario Rocco Calabrese e il sindaco Antonio Gentile. Anche qui sosta brevissima. Prima delle 14 deve raggiungere il Parco Marinella di Villammare per inaugurare con il sindaco Franco Brusco e il consigliere delegato all'ambiente Manuel Borrelli il cantiere per la costruzione della pista ciclabile prevista dal progetto per la riqualificazione del tratto di litorale antistante la Statale 18. La visita di De Luca nel Golfo di Policastro è attesa da tempo, molto prima dell'emergenza Covid, dal periodo in cui esplose la protesta per la prevista soppressione dei punti nascita negli ospedali di Sapri e Polla, rimasti aperti in virtù di un provvedimento del direttore generale dell'ASL. Sicuramente il futuro dei due reparti di maternità sarà uno degli argomenti sui quali i sindacati di categoria e i comitati cittadini chiederanno chiarimenti al presidente De Luca durante il suo sopralluogo nel nosocomio Saprese.